Di rane ne esistono tante, tutte diverse. Per qualcuna è vantaggioso abbandonare la prole e chi si è visto si è visto. Non che ci sia del male, eh. Se il comportamento è stato premiato dalla selezione naturale è perché in quel contesto ecologico ha un suo senso. Comunque invece in altre rane sono state selezionate delle cure parentali pazzesche e di quello parliamo oggi. Infatti oggi vi racconto 5 storie di rane che sono decisamente degli ottimi genitori. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi si parla di anfibi, eh. E che anfibi? Insomma, ne sentirete delle belle. Era un bel po' che non dedicavo un video alle rane e se ne sentiva la mancanza. Infatti le rane e in realtà gli anfibi in generale sono tra i gruppi di vertebrati più a rischio in questo periodo pieno di stress ecologico. Quindi bene che se ne parli. Come vi dicevo in molte specie di anuri, cioè il gruppo di anfibi di cui fanno parte le rane, ci sono appunto delle cure parentali praticamente inesistenti. In altre invece c'è proprio degli eccessi, si potrebbe quasi dire. Insomma, ci investono proprio sulla prole. E oggi vi racconto un po' quelle storie lì, perché sono veramente, veramente curiose. Allora, il primo protagonista di questa storia è il rospo del suriname, ovvero la nome scientifico Pipa Pipa. Che in realtà non è troppo corretto chiamarla rospo, ma vabbè, per intendersi. Questo è il suo nome comune e che ci dobbiamo fare. Ah, piccolo warning. Se siete tripofobici potrebbe non essere l'animale più adatto a voi, ma non so. Così per dire, eh? Comunque, questi anfibi sudamericani conducono la loro vita per intero in corsi d'acqua molto lenti e sono mamme eccezionali. Allora, quando arriva il dunque, i maschi ovviamente devono attirare le femmine, ma non lo fanno come le altre rane. Infatti producono un suono molto acuto facendo scattare l'osso ioide in gola. Una cosa un po' particolare. Se più maschi si trovano di fronte, avanzano lentamente l'uno verso l'altro fino a sbattere il muso contro il petto o la gola del rivale, scalciando e mordendosi prima di tornare indietro e vocalizzando tra un attacco e l'altro. La femmina, più grande, avvicinandosi al periodo clou, va incontro a cambiamenti ormonali che le rendono la pelle del dorso più spessa. Poi, quando un maschio riesce a raggiungere la femmina, si aggrappa la sua schiena e comincia l'amplesso. La norma per gli anfibi è la fecondazione esterna. Il maschio fertilizza le uova dopo che la femmina le ha deposte. Comunque, il maschio si porta in posizione aggrappandosi da dietro alla femmina e tra l'altro minaccia gli altri maschi che vogliono prendere il suo posto, scalciando furiosamente e spalancandogli davanti la bocca. Quando la situazione si calma, inizia la performance. Cioè, con calma, eh? Perché in questa posizione, prima che venga deposto il primo uovo, ci possono stare tipo sei ore. Senza scherzi, non ho modo di dire. Stanno sei ore fermi prima che inizino a deporre il primo uovo. Poi le rane cominciano ad alzarsi dal fondo del loro corso d'acqua. La femmina, e il maschio di conseguenza che è aggrappato a lei, ruota sollevando il fianco sinistro e si allontana dal fondo, spingendo col piede destro per terra. Una volta staccatesi dal fondo, si capovolgono e la femmina rilascia, una per volta, durante l'arco, da 10 a 30 uova, che vengono fecondate dal maschio. I due poi tornano sul fondo. Tali acrobazie, pensate, possono continuare per 12 o anche 24 ore. Perché non in tutte le manovre la femmina depone le uova, e quindi devono essere ripetute più volte. Immaginate queste rane disperate che stanno per una giornata, dopo essere stai sei ore aggrappate, una giornata a fare così. Alla fine della faccenda, la femmina può ritrovarsi con un centinaio di uova, addirittura incollate alla schiena. Eh, e poi? Allora, come penso sappiate, le rane, da piccole, sono dei girini a vita libera, di norma. Beh, non la pipa pipa. La pelle della schiena della femmina, come vi dicevo, stava cambiando. Infatti continua a crescere avvolgendo ogni uovo in una tasca di pelle nella quale poi l'uovo si sviluppa. Per tre mesi gli embrioni si sviluppano intrappolati nella pelle della schiena della madre e, al momento della schiusa, non escono dei girini ma dei ranocchietti già completamente formati, anche se lunghi appena due centimetri e mezzo. Una volta emersi dalla schiena della madre, i rospetti badano ognuno a se stesso. La madre poi fa la muta per liberarsi della pelle della schiena che era cresciuta per ospitare i piccoli e, indovinate un po', dopo poco è pronta a ricominciare. Ovviamente io ve l'avevo detto che non era un animale adatto ai tripopovici, quindi il mio l'ho fatto. E adesso dovete fare il vostro, infatti se non vi siete iscritti a questo canale, fatelo adesso. Mettete anche la campanella attivata, così non vi perdete nessun aggiornamento e vi ricordo che mi trovate sui vari social, come per esempio Instagram, dove pubblico roba quotidianamente, su Spotify, dove c'è il mio podcast Zoopodcast e su Twitch, dove streammo il lunedì e il mercoledì alle 21. Trovate tutto in descrizione. Tornando alle rane. La pipa pipa ai piccoli non le lascia proprio andare, pur di proteggerli, no? Se le infila tutte addosso, ma ci sono rane che si sono spinte decisamente oltre. Per esempio, le cosiddette rane a incubazione gastrica. Un nome che è tutto un programma. Si trattava di due specie di ranocchiette del genere Reobatracus, chiamate Reobatracus silus e Reobatracus vitellinus, che entrambe vivevano nel Queensland, in Australia, e sono famose per come davano alla luce i piccoli. Il genere fu descritto nel 1973, quindi, insomma, piuttosto di recente. E fu chiaro fin da subito che erano delle rane veramente uniche. Perché? Allora, com'è la norma negli anfibi, no? Le femmine depongono le uova e i maschi le fecondano esternamente. Però poi succedeva che la femmina figliava e le ingoiava. Così, di botto. Le uova, come ogni cosa ingoiata dalla rana, arrivavano nello stomaco. A quel punto, però, non venivano dissolte dai succhi gastrici, perché le uova proprio inibivano, in qualche modo, la produzione di acido cloridrico, quindi il principale costituente dei succhi gastrici. Riuscivano a farlo grazie ad una sostanza contenuta nel loro rivestimento gelatinoso, chiamata Prostaglandina E2. Poi lo sviluppo andava avanti, l'embrione cresceva, fino ad uscire dal suo ovetto gelatinoso come girino. E continuava a produrre Prostaglandina secernendola dalle branchie per non farsi digerire da mamma, che nel mentre, durante tutto il periodo dell'incubazione, ovviamente manco mangiava. I girini ci mettevano sei settimane a svilupparsi completamente, e crescendo prendevano un sacco di posto, a tal punto che lo stomaco finiva per riempire tutta la cavità corporea della madre, che nonostante tutto rimaneva attiva e, appunto, in tutto questo periodo, lo ricordo, non mangiava. E poi facevano anche la metamorfosi, e a quel punto la mamma li vomitava già belliche e pronti a fare la loro vita. Insomma, una roba eccezionale. Un grande spettacolo, sì, ma ormai irripetibile, perché l'ultima Reobatracus vitellinus fu vista in natura nel 1985. L'ultima Reobatracus silus, invece, fu vista quattro anni prima. L'UCN oggi considera queste rane estinte, ovviamente. Erano diffuse già di loro in un'area ristrettissima, e forse la causa della loro estinzione fu il fungo chitridio, che sta falciando ancora oggi gli anfibi, e che sta distruggendo diverse popolazioni di questi animali. Questo fungo a livello globale, tra l'altro, si è diffuso, in buona parte per colpa nostra, e colpirono, probabilmente, questa rana anche la perdita dell'habitat e l'inquinamento. Infatti, da allora non se ne è più viste, non se ne sa più niente. E non c'è molto altro da dire, in realtà, di queste rane. Non sappiamo molto, perché non abbiamo avuto letteralmente il tempo di studiarle. Gli areali di tutte e due le specie, come ho detto, già di partenza erano piccolissimi. Tra l'altro, associati ad habitat molto specifici, nel loro caso, diciamo, sistemi di insenature nelle foreste pluviali tra 300 e 1400 metri, proprio pignoline. Ci sono dei progetti partiti nel 2013 per tentare di resuscitare questa specie a partire dai campioni che si è riuscita a conservare, ma per adesso nulla di nuovo. Come vi dico sempre, ci crederò quando lo vedrò. Insomma, questa cosa della donazione non è una roba facile, ecco. Però, insomma, erano delle mamme eccezionali. Però ci sono rane in cui è il babbo, però, ad essere quello bravo davvero. È il caso della cosiddetta rana di Darwin, nome scientifico rinoderma darwini. Sì, il babbo in Toscana non è un insulto, ma è il papà. Se in Toscana dici papà, ti pigliano a scudisciate sulle gengive, quindi... Questa piccola rana del Cile, che fortunatamente c'è ancora, col suo nome scientifico, tra l'altro, omaggia Charles Darwin. E si mette davvero d'impegno per proteggere i piccoli prima della schiusa. Allora, come sapete, molte rane cantano. Ed è così che i maschi attirano le femmine di norma. Non la pipa-pipa, come abbiamo visto, ma lei è un po' strana. E cantano amplificando il suono grazie alla loro sacca vocale, no? Ma a queste rane qua non serve solo per fare le serenate. Perché dopo che la femmina ha deposto le uova tra la lettiera di foglie della foresta, il maschio resta a guardia, custodendole per tre o quattro settimane. A quel punto gli embrioni iniziano a muoversi, e a quel punto il maschio prende le uova e le ingoia. Sì, ma hanno anche loro sto vizio di ingoia le proprie uova, si vede, vabbè. Però attenzione, a differenza dell'Aerobatracus, non vanno a finire nello stomaco. Infatti il maschio ospita la sua progenie proprio all'interno della sacca vocale. Quindi li tiene nella cassa di risonanza in cui ha fatto la serenata alla loro mamma, in pratica. Pochi giorni dopo le uova si schiudono, facendo uscire piccoli girini, che restano all'interno della sacca vocale del maschio, dove si nutrono del loro tuorlo e anche delle secrezioni prodotte dalle pareti della sacca vocale. E crescono fino a raggiungere il momento di dover fare la metamorfosi. A quel punto sono passati tra 50 e 70 giorni dalla schiusa, periodo in cui, ricordiamolo, il maschio non ha mangiato niente. E arrivato a questo punto, le piccole rane saltano fuori dalla bocca del maschio e si disperdono. Tra l'altro c'è un'altra specie del genere rinoderma, che si chiama rinoderma rufum, che è nota per avere un comportamento simile, ma nel suo caso la permanenza delle larve nella sacca vocale del maschio dura un po' meno. Un altro babbo eccezionale è la rana toroafricana, Pixicephalus adspersus. Tra le altre cose, interessante, è piuttosto normale che tra gli anfibianuri, cioè rane rospi e simili, insomma, sia la femmina ad essere più grande e voluminosa. Ma non nel caso di queste rane toro. Qui i più grossi sono invece i maschi. Come mai? Allora, dopo che le uova sono state fecondate e deposte in piccole pozze, il maschio resta lì a difendere i girini, combattendo tra l'altro con incredibile aggressività. Addirittura si sa di maschi che hanno perso la vita difendendo la prole contro i predatori. Secondo una ricerca del 2001, le nidiate protette da maschi territoriali hanno più o meno il doppio di possibilità di sopravvivere rispetto a quelle protette da maschi non territoriali. Ed ecco perché le cure parentali in questa specie sono affidate ai maschi, che sono più grossi e non alle femmine. Ma non finisce qui. Le uova sono spesso deposte in pozzanghere che si seccano rapidamente, per cui il maschio può arrivare a scavare dei canali addirittura per permettere ai girini di raggiungere delle pozzanghere più fresche e soprattutto con abbastanza acqua. E questi canali di salvezza possono anche essere lunghi, più di 15 metri, che vabbè che comunque queste rane sono veramente grosse, robuste e combattive, però comunque non è un'impresa assolutamente da poco. Tra l'altro non so se vi è mai capitato di aver visto in azione queste rane, comunque si trovano dei video eccetera, ma comunque hanno una combattività, un'agilità e una soprattutto voracità che insomma sono notevoli. Ripeto, sono dei bei ranoni, ecco. Però comunque bisogna sempre contestualizzare a livello di dimensioni, cioè quello che per noi è un passo, per un elefante non è niente, ma per una piccola piccola rana può essere parecchio. Per esempio i dendrobatidi, conosciuti complessivamente come rane freccia, sono un gruppo di ranocchiette neotropicali piuttosto interessanti, perché hanno dei colori fenomenali, che ci appaiono bellissimi, sono parecchio velenose e soprattutto hanno un sacco di comportamenti legati alla riproduzione e alle cure parentali, che sono quelle che ci interessano in questo video, molto molto articolati e interessanti. In queste rane è diffuso il trasporto delle uova e dei girini, che vuol dire... Allora, in pratica sono rane, sì, ma sono terrestri, cioè vivono nelle foreste tropicali umide, perché è chiaro che abbiano bisogno di grandi, di alti tassi di umidità, però non sono affatto delle brave nuotatrici, anzi, sono rane appunto terrestri. Le uova le depongono a terra, una strategia comune tra gli anfibi tropicali, presumibilmente selezionatasi, perché in questo modo si potevano evitare i predatori acquatici. Tuttavia la maggior parte dei girini di queste rane sono acquatici, appunto, e quindi non sopravviverebbero fuori dall'acqua. Quindi gli adulti pigliano e se li caricano letteralmente in spalla, e li portano loro all'acqua. A seconda della specie, i girini vengono trasportati dai maschi o dalle femmine, da soli o in gruppo, e liberati in ruscelli o anche pozze, pozze che a volte non si trovano a terra, ma in piccole cavità riempite d'acqua, alla base degli stelli delle piante, come vedremo dopo, ma appunto ci arriviamo. Uno studio del 2019 ha fatto più chiarezza riguardo quanto e come si spostano queste rane con i girini sul groppone. In pratica hanno attaccato delle piccole radiotrasmittenti agli adulti di due specie di queste rane, in cui in entrambe il trasporto è a carico del maschio, ovvero sette esemplari di Amerega trivittata e undici di Dendrobates tinctorius. Tra l'altro Bellini, sembra che gli abbiano messo il pannolino, tipo, invece no, è la trasmittente. Lo studio ha osservato i loro spostamenti, facendo ovviamente caso quando queste rane oltrepassavano uno stagno invece di metterci lì i girini. Hanno scoperto che maschi adulti carichi di girini spesso non vanno negli stagni più vicini, ma in quelli più lontani, spendendo così energia preziosa e rischiando molto perché si espongono. Alcuni esemplari studiati addirittura hanno compiuto degli spostamenti di 400 metri, che per una ranocchietta così piccola non è una passeggiata. O meglio, sì, però piuttosto impegnativa. Le trivittata si sono spostate più lontano, in media per circa 215 metri, mentre lo stagno più vicino disponibile era in media a una cinquantina di metri dal territorio di origine. Le tinctorius si sono spostate invece meno, in media 39 metri, ma anche loro hanno per esempio ignorato degli stagni che in media si trovavano a 19 metri di distanza dal luogo di nascita dei girini. Due rane hanno addirittura lasciato la foresta per depositare i girini in dei pascoli allagati. È rischioso, come dicevo, spostarsi così tanto, perché si possono incontrare predatori e perché, energicamente parlando, è un bello sforzo se sei una ranocchietta così. Questa faticaccia però la fanno perché questi spostamenti sono il miglior compromesso tra disponibilità di cibo dipendente appunto dal volume d'acqua in cui si va a mettere il girino e il rischio di predazione all'interno delle pozze, quindi sempre per il girino. Trasporto del girino consente ai genitori, tra l'altro, di prendere appunto decisioni abbastanza flessibili nella scelta del miglior microhabitat per la loro prole. E questa prole oltretutto la puoi, così, disperdere di più. E questo è vantaggioso per vari motivi. Per esempio, si possono colonizzare nuove aree, si riduce la competizione tra parenti e anche si riduce l'inbreeding, cioè l'accoppiamento tra consanguine. Capire i loro territori e anche come e quanto si spostano può aiutarci a proteggerli tramite appunto la protezione del loro ambiente che è di fondamentale importanza. Anche perché, ripeto, due di queste rane non sono rimaste nella parete, sono uscite fino alle zone coltivate, ecco. Uno studio del 92 ha riscontrato che le femmine di oofaga granulifera variano parecchio l'altitudine delle pozze in cui depongono il loro girino. C'era una femmina osservata nello studio che aveva deposto un girino nell'accumulo d'acqua nello stelo spezzato di una palma, quindi a 80 cm dal suolo. Poi nell'accumulo d'acqua nello stelo spezzato di un arbusto che invece stava a un metro e mezzo e poi addirittura in una bromelia che stava a 3 metri dal suolo. Quindi una bella migrazione verticale per un animaletto così piccolino. Ora, vi ho detto prima che la dispersione nel caso delle specie, no, in cui vi parlavo dei maschi che si fanno carico della cosa, avviene anche in base alla disponibilità di cibo per i girini nelle pozze. Ma in questo caso si sta parlando di piccoli accumuli d'acqua nello stelo delle piante, quindi hanno spazio per un solo girino e tra l'altro lì che cavolo si mangiano? Cioè, com'è che fanno a sopravvivere? La cosa bella è questa, cioè nei dendrobatidi con questo tipo di comportamento non solo la femmina trova una pozza d'allevamento per ogni girino viaggiando un botto anche in verticale, ma per circa 6 settimane lei visita ogni pozza e lascia cadere dentro la pozza un uovo non fecondato che il girino si mangia e grazie a quello cresce fino all'età adulta. Uno studio del 2014 che ha studiato uova, adulti e girini di ofaga, pumilio ha riscontrato che non solo questo è fondamentale ovviamente per la nutrizione e la crescita perché sennò il girino che cavolo mangia ma è anche fondamentale per la difesa. Queste rane, come dicevo prima, sono parecchio velenose, cioè gli alcaloidi che utilizzano per difesa non li producono loro però, attenzione, li estraggono dagli invertebrati di cui si nutrono principalmente i millepiedi acari, coleotteri, formiche, ecc. Ebbene, dallo studio è emerso che la percentuale di questi alcaloidi nelle rane cresce con l'aumentare della taglia e quindi con la crescita. Non sono stati individuati alcaloidi né i girini ai primi stadi ma, seppure in piccole traccia, nelle uova sì. E tra le altre cose i girini allevati in cattività con uova di rane simili che non contengono alcaloidi poi questi girini non contenevano alcaloidi crescendo. Quindi gli indizi portano a pensare che sia proprio la madre a fornire alla prole la difesa chimica dopo la schiusa nutrendoli in questo modo cioè con delle uova che contengono queste sostanze che quindi i girini assumono. È pazzesco. Tra l'altro oofaga vuol dire mangiatrice d'uovo. Diversi di questi alcaloidi vengono infatti estratti negli adulti da formiche d'acari come dicevo, no? E altre cose. È possibile che i girini dicono gli autori abbiano mangiato questi animaletti che sono morti dopo essere caduti nella pozzettina ma sono percentuali troppo basse perché effettivamente la difesa chimica dei girini dipende da questo per cui gli autori propendono decisamente per le uova. Tra l'altro si è visto che queste sostanze ottenute dalla madre scoraggiano anche la predazione dei girini da parte delle formiche proiettile quindi è pazzesco. I comportamenti legati alla riproduzione in questo caso proprio all'allevamento della prole sono molto molto interessanti sono studiati da un sacco di punti di vista insomma sono materia per biologi evoluzionisti per etologi per ecologi quindi insomma e possono come aveva visto anche aiutarci a preservare queste specie che molto spesso sono in pericolo nel caso della rinoderma non la rana quella lì la incubazione gastrica ciao nel senso quella proprio non c'è più però vabbè se possiamo evitare di farlo con altri bene ecco mi raccomando ditemi tra i commenti quale tra questi tipi diversi di strategie vi ha colpito di più insomma mi fa piacere spero di avervi raccontato qualcosa che non sapevate e se non vi piacciono le rane non sapete cosa vi perdete questo penso sia un ottimo punto di vista per approfondire la conoscenza di questi animali davvero ve lo auguro perché sono veramente belli quindi se il video vi è piaciuto spammatelo a giro lasciate un commento lasciate un mi piace eccetera e ovviamente vi ricordo che se volete sostenere la mia attività di divulgazione su youtube trovate in descrizione tutti i link per poterlo fare per esempio il mio progetto di patreon se volete diventare un mangiafolle sciamante e avere accesso al gruppo telegram a contenuti esclusivi vedere e sentire i podcast prima che vengano resi disponibili per tutti merchandise esclusive eccetera trovate il link in descrizione un altro modo è la wishlist con cui potete aiutarmi ad arricchire i contenuti di questo canale e il libro consigliato di oggi mi è proprio arrivato tramite uno di voi dalla wishlist ed è i sensi degli uccelli di Tim Birkhead un libro che spiega come gli uccelli vedono il mondo come vedono cosa sentono a quanta distanza eccetera e soprattutto sarà vero che i sensi sono solo 5 quindi se vi piacciono gli uccelli ovviamente vi rimando al link in descrizione che vi lascio con l'affiliazione di amazon sapete già come funziona c'è anche una serie di letture consigliate sempre con l'affiliazione funziona uguale trovate tutto in descrizione come sapete sono anche consulente di una serie di modellini stampati in 3D che sono ricostruzioni scientificamente accurate di animali preistorici la scorsa settimana è uscito il nuovo modellino della serie che è oibo il mammut lanoso se volete vedere l'unboxing sapere un po' tutto il lavoro di consulenza che ho fatto dietro vi lascio appunto il link in descrizione ovviamente per recuperarlo c'è anche il codice sconto ma anche della live di twitch che ho fatto insomma su questo tema se non la trovate lì la trovate comunque sul mio secondo canale e se volete sapere un po' tutto della vita del mammut lanoso è uscito un video pochissimo tempo fa che vi lascio nella handcard seguitemi naturalmente anche su twitch ve l'ho già detto su instagram su spotify dove c'è il mio podcast zo podcast e vi ricordo naturalmente che è disponibile anche il mio merchandise quindi se volete dare un'occhiata alle grafiche che ho realizzato per magliette tazze eccetera vi lascio il link in descrizione anche lì col codice sconto direi che vi ho detto tutto quindi grazie per essere giunti sino a qui ci vediamo al prossimo video e niente statemi bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti